Veder nascere l'alba che tinge pian piano di rosa colonne e capitelli che sbucano dall'oscurità, poi l'arancio e l'azzurro fino al sorgere del sole. È uno spettacolo straordinario, soprattutto se avviene nella Valle dei Templi. Per tre domeniche di agosto, la prossima, poi il 12 e il 26 alle 5.30 del mattino, sarà possibile assistere al sorgere del sole, partecipando ad una visita teatralizzata nell'area sacra della città antica. Qui, 2600 anni fa, i Dei dell'Olimpo svegliavano le coscienze e tenevano tra le loro mani il corso della vita. Riappaiono e sembrano non essere mai andati via, si svelano, prendono corpo dal passato in occasione di una speciale visita teatralizzata, condotta da un archeologo e da esperti del sito. Zeus, Afrodita, Apollo, Ares, Artemide e tanti altri ancora, anche poco conosciuti, anche meno importanti, che con i loro abiti bianchi ed evanescenti prendono vita per un'inedita esperienza ricca di emozioni. Alla fine della visita il pubblico sarà accompagnato verso il Cardo Primo e gli scavi del teatro ellenistico, percorso aperto proprio di recente fino al nuovo concept store appena inaugurato del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, per la più siciliana delle colazioni tradizionali, ovvero brioche e granita. Lo spettacolo dell'alba fa parte del cartellone estivo di eventi organizzati da Cop Culture. Un fine settimana che si muove, dunque, tra teatro e musica, sempre all'interno del calendario di spettacoli. Domani sera, alle 21, al Tempio di Giunone, uno dei più importanti attori siciliani, che è Tano Aronica, proporrà l'una pazza a cura della Fondazione Teatro Pirandello. In chiave surreale e fantastica, Aronica immagina l'ultima notte di Luigi Pirandello, popolata da una folla enorme dei suoi personaggi che vanno a far visita al drammaturgo. Sfilano in tanti, professori, donne innamorate, popolani e nobili, una selva di caratteri che in seguito il pubblico ha iniziato a riconoscere, nati dalla pena di uno scrittore da Nobel. In scena, 20 artisti siciliani, con coreografie e costumi molto particolari. Sabato sera, invece, sempre alle 21, al Tempio di Giunone, sarà la volta del canto antico dei fratelli Mancuso, Enzo e Lorenzo. Non sono solo cantanti o soltanto compositori, ma anche polistrumentisti, narratori, drammaturghi del suono e intimamente siciliani. Con il loro canto essenziale recuperano la tradizione interpretandolo in uno stile del tutto nuovo.